A Teramo i sindacati tornano a riaccendere i riflettori sul problema delle aggressioni registrate negli ultimi mesi ai danni del personale sanitario. L'ultimo è quello di due giorni fa in un'abitazione di Villa Rosa di Martinsicuro, dove l'equipaggio del 118 di Giulianova era intervenuto in seguito alla richiesta di una donna che aveva chiesto aiuto perché il figlio era in stato di agitazione. Appena il medico è entrato nell'appartamento è stato raggiunto da un pugno sferrato dal giovane ed è caduto a terra. I colleghi del medico non sono riusciti ad entrare per aiutarlo perché la porta dell'abitazione era chiusa e quando è stata riaperta il giovane si è scagliato anche contro l'infermiere e l'autista che hanno riportato lesioni. Una delicata vicenda su cui il sindacato della UGL chiede di riscrivere i protocolli della prevenzione del personale. Il problema più grande è quello che ritorniamo a riporre l'attenzione, è quello di un ampliamento e un riscrivere i protocolli per quanto riguarda la prevenzione delle aggressioni interne ed esterne agli ospedali coinvolgendo con la disponibilità che già è stata portata più volte da parte della direzione strategica dell'Ase coinvolgendo quelli che sono gli altri enti preposti quindi parliamo di prefettura, questura e sicuramente sarà come già fatto in passato riproporrò questa situazione anche al tavolo dell'osservatorio provinciale che si tiene in prefettura per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Una problematica quella delle aggressioni portata nuovamente all'attenzione anche dei vertici dell'azienda sanitaria. Da parte loro c'è propensione comunque a rivedere i protocolli ma io da una parte mia aggiungerei che bisognerebbe rivedere un pochettino quella che è l'educazione perché purtroppo questi comportamenti che ci sono anche le aggressioni verso gli operatori sanitari, verso gli operatori dei pronto soccorsi, dei reparti, tutto il personale sanitario è figlia anche pure di una situazione che a livello culturale e generazionale sta cambiando, anzi è cambiata.